Ehi voi, ma voi, voi sapete cos'è una donna? La donna è l'esegesi, è la genesi della terra. Anche la delinquente, ad esempio, anche lei è una donna con la mente di una donna, cui non si può negare il ruolo più alto. Che credete? La donna è donna. Alla donna guardano gli animali, guardano i pesci, gli uccelli e gli uomini, che amano la donna e che la conoscono e non la mettono in difficoltà. E la proteggono, la comprendono, la tutelano e la accettano per quello che è e non per quello che dovrebbe essere. Ecco cos'è la donna. L'immagine stessa del mondo, della terra e del sole. La donna che regna su tutte le cose. Ed anche se non è sapiente, non è mai una donna naniente. Anche se sbaglia profondamente, è donna ugualmente, perfettamente. La donna è donna e la sua voce urla a tutti i pianeti che qui c'è qualcuna che ama e che vuole essere amata, desiderata, scontata delle pene, capita e che non vuole essere tradita, uccisa, aggredita. Che non può essere sfruttata, colpita, negata. La donna è tutto quel che c'è e che ci sarà. È tutto. Tutto ciò che abbiamo ancora adesso. E quando non ci sarà più e non resterà di lei neanche un piccolo ricordo, allora saprete tutti chi è la donna veramente e la cercherete ovunque, senza trovare niente.